La zona di Pratacci ad Arezzo è entrata nel futuro, ora è interamente cablata con Estracom, poi sarà la volta di Via Calamandrei e San Zeno. Sono 1300 le imprese e 700 le abitazioni coinvolte dell'area Pratacci. Per tutte il cablaggio è già realtà grazie ad Estracom, società del gruppo Estra. Estra ha il dovere di investire anche ad Arezzo, anche sugli altri servizi che è in grado di erogare. Estracom ha una bellissima realtà, molto efficiente e dinamica, che fino a due anni fa era particolarmente concentrata nell'area Pratese Fiorentina. Oggi si vedono i frutti degli investimenti, delle nuove strategie che porteranno questa società del gruppo ad essere fortemente presente ad Arezzo. Pensate che quando completeremo i lavori, entro l'estate di quest'anno, avremo ben 3400 utenze, diciamo che avranno la disponibilità della banda ultralarga e alle quali venderemo anche servizi in campo digitale. È il momento di dare tutte le opportunità che la tecnologia offre alle nostre aziende e alle famiglie. Il futuro sarà un'azienda moderna, intelligente, capace di connettersi, di vendere il più possibile attraverso questi strumenti che stanno dilagando. Ma c'è anche una risposta alle famiglie, non solo alle imprese, ma alle famiglie perché si parla anche di centinaia e centinaia di utenze che saranno dotate appunto della banda ultralarga che contribuirà anche a aumentare il valore degli immobili. Il cablaggio sarà esteso in via Calamandrei dove riguarderà 1200 attività produttive e poi a San Zeno con 200 aziende che potranno fruire del servizio. In queste due aree il completamento dei lavori è previsto per la fine dell'estate. Complessivamente Estracom offre la miglior connessione oggi possibile alla rete a 3400 utenze, con un investimento di oltre un milione di euro, il coinvolgimento delle imprese locali e quindi anche con maggiore occupazione. Io li chiamerei servizi digitali, quindi per ora è banda ultralarga, quindi grosse quantità di internet da 100 megabit a 1 gigabit per poi andare a costruire i servizi digitali per un futuro. Ecco, non guardiamo ora ma guardiamo al futuro. Operazioni come queste non fanno altro che dare degli strumenti in più alle nostre aziende per svolgere il loro ruolo di produzione, di commercializzazione, di interferenza con il mercato e con le nuove tecnologie. Siamo alle soglie del futuro. Arezzo è sempre stata una città che è riuscita a modificare i suoi modi di produrre ricchezza a partire dall'attività agricola che la caratterizzava prima della Seconda Guerra Mondiale. Siamo alla terza trasformazione. Credo che abbiamo le carte in regola per presentarci veramente alla soglia del secondo decennio di questo secondo millennio in maniera eccezionalmente preparata. Oggi le imprese, questo dico da imprenditori, se una volta apprezzavano la viabilità, quindi strade, autostrade, ferrovie oggi hanno altri canali per affrontare la sfida del mercato del domani. E se noi aretini ancora oggi siamo grati a Mintore Fanfani perché negli anni 60 ha portato l'autostrada d'Arezzo speriamo che nel futuro queste scelte facciano ricordare questa amministrazione per questo investimento che sta facendo per aprire Arezzo al mondo. Grazie a tutti.